salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente oggi è arrivata l'attesissima prova di lui le mjx bugs 19 e is questo piccolo drone 249 grammi di mjx che va ad evolvere quello che era già la versione precedente il bugs 19 aggiungendo la stabilizzazione elettronica quindi il video di oggi ovviamente sarà un video test completo in cui lo vedremo sia dal punto di vista dell'overing del comportamento in volo proveremo l'rth proveremo a fare anche un point of interest proveremo anche il follow me ma soprattutto proveremo quello che è la qualità video e foto di questo drone per quanto riguarda il comparto volo rimane quello che era la versione precedente cioè il bugs 19 mentre per quanto riguarda la qualità video dovrebbe esserci un netto salto in avanti perché comunque con questa stabilizzazione elettronica che mjx ci ha già fatto vedere su altre versioni dei suoi droni droni più grossi più pesanti rispetto a lui ha sempre dato tante soddisfazioni a chi li ha provati mentre per quanto riguarda le sue caratteristiche video ve le lascio qua sopra nelle schede il video che ho fatto dell'unboxing lui registra video in 2,5 k 30 fps e che ha di veramente interessante ovviamente oltre la stabilizzazione elettronica che quella che proveremo oggi è il bitrate perché normalmente i droni a basso costo hanno un bitrate molto basso quindi registrano sia 2,5 k o a 2,7 k però con un bitrate talmente basso che la qualità la definizione dei video rimane abbastanza deludente qua invece abbiamo un bitrate di 50 megabit per secondo che ovviamente rispetto ai droni seri non sono niente di che ma per un drone a basso costo 50 megabit per secondo ragazzi sono tanta tanta roba e poi una cosa che voglio segnalarvi che se acquistate questo drone vi lascio qua sotto il link in descrizione di banggood dove vi viene venduto a circa 129 euro poi se recupero il cupo sconto vi lascio comunque qua sotto in descrizione o sul mio canale telegram offerte ci è spiegato nel manuale di istruzione di posizionare le antenne in questa maniera ovviamente questa è finta quindi potete posizionare come ci avete voglia questa è l'antenna delle controlli nel senso che i comandi dati dal controller passano da questa antenna e se la mettete verso l'alto è schermata dallo smartphone quindi nelle istruzioni è consigliato metterlo così che va a coprire meglio l'area di comunicazione col drone e questo importante soprattutto poi con questi droni che hanno comunque un segnale non ultra performante perché comunque lui ci viene dato a 600 metri di range per quanto riguarda il controller e ci viene dato intorno ai 200 300 metri per quanto riguarda il segnale video perché comunque segnali video è tra drone e smartphone non c'è antenne non c'è niente quindi è il wifi creato dal drone è un wifi a 5 gigahertz da non confondere mi raccomando con la rete telefonica 5g non c'entra nulla qua è il wifi 5g e tutti gli smartphone hanno wifi 5g quindi se leggete nelle specifiche del drone wifi 5g non spaventate perché il vostro smartphone ha sicuramente il wifi 5g mentre per quanto riguarda il controller che passa attraverso questa antenna il segnale wifi è sulla 2,4 gigahertz infatti abbiamo più range a livello di distanza quindi detto tutto questo direi che adesso è arrivato l'attesissimo momento di provare e testare le mg x box 19 e is andiamo ok siamo pronti accendiamo il controller andiamo ad accendere le mg x box 19 e is i due dispositivi si sono già connessi quindi il controller già è connesso al drone adesso dobbiamo entrare nelle impostazioni wifi e andare a connettere la rete creata dal drone cioè drone 4 e a questo punto dobbiamo andare aprire l'applicazione x drone e siamo pronti vedete che la telecamera già sta inquadrando quindi la prima cosa che dobbiamo attendere è il segnale gps che in questo momento vedete in alto ci dice che non abbiamo ancora i satelliti necessari anche se volendo si può decollare senza spostando questo switch su off ma ovviamente questo serve se vogliamo in casa o in zone dove il gps non prende all'aperto come in queste condizioni ci vuole sempre il gps vedete che abbiamo già sei satelliti ed è una cosa che ho notato che è velocissimo nell'agganciare i satelliti per essere un drone a basso costo ragazzi è stra veloce nell'agganciare i satelliti diamo un'occhiata veloce all'applicazione ora qua in alto sulla rotellina dell'ingranaggio abbiamo le varie impostazioni che possiamo andare a modificare e qua ragazzi c'è un appunto da fare vedete che tutto è posizionato al minimo questo ogni volta che andiamo a riaccendere il drone quindi se io voglio mettere distanza massima 500 metri massima altezza 120 metri e l'rth mettere 50 metri lo devo fare ogni volta perché queste impostazioni vanno sempre ogni volta che riaccendiamo il drone ad azzerarsi non ho capito il perché è fastidiosa come cosa però dobbiamo ricordarci di farla altrimenti avremo un rth bassissimo e anche tutte le altre impostazioni al limite minimo poi uscendo dalla schermata dobbiamo dargli ok e lui registra il settaggio che però va ad azzerarsi all'avvio successivo e vedete che i satelliti sono già diventati 13 ve l'ho detto è velocissimo e poi cliccando sotto alle tre linee sotto al pallino rosso della registrazione abbiamo la configurazione della videocamera e ragazzi guardate quante impostazioni possiamo andare a regolare anche in maniera manuale della videocamera sebbene è un drone love coast ragazzi abbiamo tutte queste impostazioni regolabili davvero tanta roba da questo punto di vista abbiamo la possibilità della risoluzione quindi abbiamo 1080 santa fps o 4k 30 fps in realtà non registra in 4k registra in 2,5 k però c'è da dire che è un 2,5 k come tutti i droni a basso costo il limite massimo che hanno è quello come risoluzione ma normalmente i droni a basso costo hanno un bitrate basso quindi la qualità video è scadente oltre al problema della stabilizzazione però qua abbiamo anche un bitrate alto per essere un drone di questa categoria di prezzo perché abbiamo un bitrate che intorno ai 50 megabit per secondo e questo ragazzi fa tanto la differenza qua abbiamo format la formattazione della micro sd che però vi sconsiglio di fare se avete un mac ma formattate direttamente dal mac perché sarà formattate dal drone o meglio dall'applicazione del drone il mac non vi leggerà la micro sd una volta che avete registrato i file mentre windows non ha questo tipo di problema con questa formattazione quindi se avete un mac formattatela in extra fatta con il mac e poi mettetela nel drone e utilizzate le registrate senza farla formattare da qua e poi qua a sinistra abbiamo questi quattro quadratini dove abbiamo la possibilità di scegliere il follow me il point of interest o la modalità address mode cioè la modalità senza testa quindi queste sono tutte le funzioni avete visto l'applicazione semplice ma è davvero ben fatta abbiamo 14 satelliti faccio partire la registrazione video e direi che possiamo iniziare il test quindi sarà la solita tipologia di test lo proveremo in overing un attimo per vedere il suo comportamento in overing lo proveremo nel comportamento di volo poi ovviamente proveremo la qualità video che quella che interessa che questo drone è stata tanto atteso appunto per questa stabilizzazione elettronica che ci dovrebbe dare dei video anche in un drone così a basso costo utilizzabili e condivisibili e poi proveremo anche un rth per vedere come si comporta appunto verso il pad di decollo quindi detto tutto questo iniziamo il decollo per decollare dobbiamo cliccare il tastino qua sopra quello rosso che ci dà l'avvio dei motori e vedete che il drone si è acceso e qua possiamo fare un decollo automatico cliccando il tasto qua o dare gas come sto facendo io e andare a decollare allora c'è da dire una cosa che lui ha un overing secondo me più che dignitoso per essere un drone a basso costo come state vedendo adesso abbiamo addirittura 16 satelliti non è obbligatorio usare l'applicazione o lo smartphone potete usare tranquillamente solo il controller e il drone lui funziona tranquillamente senza lo smartphone e potete anche registrare video e tutto senza utilizzare lo smartphone un'altra cosa che volevo dirvi che abbiamo due velocità in questo caso siamo nella mozzare e abbiamo la possibilità di due tipi di velocità in questo caso siamo con la medio abbiamo due tipi di velocità in questo caso abbiamo la modalità love cioè quella lenta per fare delle riprese video anche per chi è inesperto e poi una modalità più sportiva dove il drone è più aggressivo è un'altra cosa che volevo farvi notare ragazzi è la diciamo la fluidità del gimbal guardate se io muovo la videocamera come si muove in maniera fluida l'immagine e la videocamera ed è questa una cosa molto rara perché nei droni love coast ragazzi è difficilissimo trovare un movimento fluido del gimbal quindi è davvero davvero notevole da questo punto di vista quindi adesso dopo aver visto che in hovering comunque è un drone che si comporta benissimo possiamo anche iniziare a volare come vi ho detto questa è la modalità love quindi quella lenta ovviamente avendo una stabilizzazione elettronica quando il drone vola la stabilizzazione lavora bene quando ovviamente freniamo è lì che la stabilizzazione elettronica non serve e va a diciamo tipo questo qua è stata una frenata e sicuro avete visto che la stabilizzazione ovviamente non c'è perché non avendo un gimbal meccanico quando frenate l'immagine si blocca in maniera decisa però quando volate secondo me è tanta roba la stabilizzazione elettronica cioè se voi continuate a volare è pazzesco poi quando frenate ovviamente quella parte va tagliata però ragazzi parliamo di un drone da 129 euro cioè guardate la stabilizzazione dell'immagine è incredibile adesso cioè è pazzesca adesso lo faccio venire verso di me abbasso il gimbal così vedete la ancora la qualità della del gimbal c'è è incredibile come si muove è fluido è adesso vado a cambiare la velocità e gli diamo un po più sprint quindi vado a cliccare il tasto della velocità finché passa in una modalità più spinta e guardate come diventa divertente che qua spinge ovviamente quando frenate in modalità sport come questa è ancora più brusca la stabilizzazione della frenata ma ve l'ho detto non è quello che serve tanto la parte della frenata si può sempre eliminare mi alzo di quota cioè guardate che stabilità ragazzi è incredibile ed è solo stabilizzazione elettronica per quanto riguarda il range del ritorno video viene dato per una distanza di 200 300 metri ma io vi consiglio di non andare oltre 150 massimo 200 metri non di più e qua fermo sopra abbasso il gimbal così magari riesco ad inquadrarmi eccomi qua mentre per quanto riguarda il controller cioè quello che è proprio i comandi possiamo arrivare anche a 500 600 metri che comunque ha molto più range abbiamo un'antenna vera che è quella del controller mentre questa antenna è finta perché comunque per quanto riguarda il ritorno video è una connessione tra drone e smartphone quindi è un wifi che ha un range limitato perché non ha nessuna antenna che amplifichi appunto il segnale allora adesso mi alzo un po e scattiamo una foto ne scattiamo una qua mi giro perché comunque le foto secondo me sono molto interessanti di questo drone qua ne scattiamo un'altra mi giro ne scattiamo una anche di qua perché comunque secondo me video e foto per 129 euro sono incredibili adesso mi allontano un po siamo a 53 e 60 metri di distanza arriviamo a 100 metri 100 ok andiamo a fare l'rth perfetto vedete che sta salendo quindi siamo a 28 36 metri sta salendo siamo a 50 50 metri dovrebbe iniziare l'rth vediamo perfetto ok è arrivato a 50 metri e sta iniziando l'rth l'rth lo fa in maniera stranissima arriva praticamente sul fianco ma come sta andando arriva così cioè non arriva di muso arriva stando sul fianco comunque abbassiamo la telecamera così vediamo il pad mi sposto che non vorrei andargli creare danni psicologici perché mi vede non mi vede anche se in teoria non dovrebbe vedere niente non è così avanzato però vediamo sta scendendo perfetto e direi che secondo me non è niente male ci siamo quasi e allora è qua sopra nel caso vado ad interromperlo se fuori dal pad perché comunque c'è l'erba un po alta vediamolo è qua e non è male però vado ad interromperlo cioè guardate ragazzi dov'è praticamente sarebbe atterrato qua è a 15 centimetri dal pad davvero niente male ritorniamo in volo l'rth l'abbiamo fatto eravamo quasi a 150 metri poco di più che è un range dove vi ho già detto secondo me è inutile andare oltre con un drone di questo tipo soprattutto per quanto riguarda il ritorno video poi se volete andare oltre perché non non state utilizzando lo smartphone e siete a livello di pilotaggio e basta potete andare anche un po oltre arrivare anche a 300 400 metri detto questo direi che possiamo provare quello che è il point of interest cioè girare intorno a un punto di interesse che poi in realtà lui non inquadra il soggetto ovviamente il soggetto lo dobbiamo inquadrare noi con la videocamera a lui fare il punto di interesse utilizzando come punto di interesse il controller e lo smartphone quindi entriamo nelle impostazioni facciamo punto di interesse se vi ricordate nel menu che adesso non si può andare a cambiare perché il drone è in volo il punto di interesse è impostato di default a cinque metri che è il minimo poi potete aumentare quindi vado a selezionare l'avvio do l'ok e via poche funzioni diciamo decantate ma quelle che fa come vedete le fa bene ragazzi 129 euro e anche questo point of interest è utilizzabile lo potete condividere adesso io l'ho fatto su di me in questa situazione ma potete farlo su di voi situazioni migliori di queste quindi vado a fermarlo e adesso un'altra funzione che volevo provare è il follow me anche qua ragazzi il follow me è dato sempre dal gps dello smartphone quindi lui non seguirà il soggetto nel senso che non tiene inquadrato con la telecamera il soggetto come nessun drone a basso costo ma il drone seguirà sempre il gps dello smartphone quindi sarà sempre agganciato a voi ovviamente se state troppo vicini farà fatica ad inquadrarvi quindi adesso mi allontano un attimo così l'inquadratura è un pochino più ampia e non rischio di non rimanere nell'inquadratura vado a selezionare vado a selezionare follow me do l'ok e il drone dovrebbe seguirmi vediamo vedete che sta arrivando e mi sta seguendo anche se corro adesso mi sposto lui alla fine va indietro ovviamente non mi sta più inquadrando perché sta andando indietro lui la telecamera non la gira però arriva sempre se io adesso vado ad interromperlo lo giro un attimo verso di me perfetto mi sposto da questa parte e do il follow me ancora così da avere la telecamera che mi segue e vedete che arriva lui sta arrivando lento ma sta arrivando adesso gli vado incontro vediamo cosa fa guardate come retrocede dagli incontro perché comunque lui prende questo segnale del gps dello smartphone vedete che sta retrocedendo è tanta tanta roba e questo ovviamente è il massimo che possono fare questi droni a basso costo cioè il follow me non l'active track ovviamente però viene fatto da questo drone in maniera secondo me più che buona perché 249 grammi in questa fascia di prezzo c'è davvero poco lui è secondo me pazzesco guardatelo lì fermo in hovering che over incredibile che ha e adesso voglio fare qualche altra ripresa con la videocamera mi alzo per farvi capire la qualità video del drone perché comunque lo so che chi aspettava questo drone per la qualità video lo aspettavo anch'io per questo motivo sebbene ovviamente non è il mio drone di utilizzo così siamo in modalità quella sport vado a girare perfetto ve l'ho detto che se fate in movimento cioè se non fate frenate la stabilizzazione c'è ed è incredibile perché è stabilizzato solo con dei gommini dal punto di vista meccanico e poi dal quello che è la stabilizzazione elettronica secondo me è un gran bel drone certo ma questo prezzo è folle cioè guardate come viaggio e anche la batteria i 20 minuti li raggiunge tranquillamente poi la batteria intelligente quindi si scarica da sola se la lasciamo in carica non quindi non va a rovinarsi cioè è un drone ben ben fatto lo straconsiglio a chi vuole acquistare un drone come primo drone per poi magari passare a qualcosa di più impegnativo dal punto di vista soprattutto economico ma qua abbiamo sicuramente un ottimo prodotto è perfetto è andato in allarme batteria e sta ritornando quindi vediamo e torna sempre così sul fianco vabbè vediamo è qua sopra o fermati sono qua io sta tornando quindi abbiamo visto anche la prova in l'allarme batteria non è batteria ha fatto la rete h da solo e sta scendendo vediamo quanto è preciso rispetto a prima e qua sopra vediamo quanto è preciso rispetto alla rete h precedente quasi eravamo anche molto più lontani era montone i 200 qualcosa metri e poi è attivato la rete h quando la batteria ha iniziato ad essere scarica vediamolo eccolo qua vado fallo a terrare io manualmente sul pad perfetto allora l'ho fatto a terra rio manualmente perché sarebbe atterrato qua quindi a 50 cm dal padre sempre tanta roba secondo me e abbiamo visto anche e quindi abbiamo visto e quindi il bello che abbiamo quindi le mie considerazioni riguardante lui le mgx back 19 e se sono tutte considerazioni positive l'avete visto l'avete visto in tutti i suoi aspetti quello che era appunto del comparto volo già lo conoscevate perché comunque rimane quello che era la sua versione senza la stabilizzazione elettronica mentre qua quello che tutti stavamo aspettando appunto è vedere come facesse video e foto quindi comparto volo strapromosso e comparto video e foto secondo me strapromosso perché comunque per essere un drone che ha solo questo ammortamento cioè non ha un gimbal meccanico a parte il movimento della videocamera cioè l'inclinazione non ha un gimbal quindi ha solo questo ammortamento e poi stabilizzazione elettronica è incredibile e poi avete visto la fluidità della videocamera nel muoversi su e giù è pazzesco nessun drone love coast a questa fluidità nemmeno tanti modelli di dimensioni maggiore che costano anche più di questo da questo punto di vista è sicuramente imbattibile quindi vi aspetto qua sotto nei commenti per le vostre considerazioni le vostre opinioni vi lascio qua sotto il link per acquistarlo se riesco ad averlo anche con un coupon sconto per avere più sconto rispetto ai 129 euro che è il prezzo in cui in promozione questo momento e ragazzi secondo me l'attesa di quasi un anno rispetto alla versione precedente è stata ripagata da una stabilizzazione che vale davvero tanto e da questo punto di vista mjx non delude mai perché hanno questa stabilizzazione elettronica che hanno già portato su altri modelli di loro droni però più diciamo grossi di dimensioni e di peso e non ha mai deluso e sicuramente non ha deluso nemmeno in questi 249 grammi e quindi se questo mio video in cui vi ho portato questa recensione prova e teste di questo mjx box 19 e se vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram da porto tante novità spoiler di quello che arriva qua sul canale sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupon sconto riguardante il drone tutta la tecnologia in generale sicuramente arriveranno il coupon sconto anche di lui ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una recensione un test o una novità ciao e al prossimo video